Ok ragazzuoli, abbiamo trovato quest'altra piccola caverna, grotta, come la volete chiamarla chiamate Recuperiamo questo ferro di qui e andiamo a vedere se là sotto c'è per puro caso Così per pura fortuna, lontana, vicina, non si sa cosa Un qualche diamantozzo, voglio dei diamantozzi raga Cioè stiamo girando da non so quanto, in questa maniera non ho trovato nemmeno dei diamanti Stiamo trovando un sacco di oro Dimmi che giro l'angolo e ci sono i diamanti C'è della redstone, la redstone uguale, buona possibilità che ci siano diamanti Signori, mi bello che stiamo facendo un sacco di Non è che per caso qua sotto ci sono dei diamantozzi così a caso A buffo, a buffo, a buffo, a buffo, niente Nella redstone fitusa, fitusa, niente da fare Continuiamo a mettere Vediamo tutta questa lava La cosa carina signori miei E io non c'ho la pala La cosa carina è che nel prossimo video Io installerò la 1.16 L'aggiornamento della 1.16 Non la 1.16 effettiva ma l'aggiornamento Perché ho deciso che voglio andare nel nether Ho visto che ci sono tantissime cose bellissime e fighissime nel nether raga E ci voglio andare E mi serve l'ossidiana per andare nel nether E noi l'ossidiana non ce l'abbiamo Guardate quanta bellissima l'ossidiana abbiamo qui Che non potremmo utilizzare Perché non abbiamo un piccone di diamante per recuperarla Però va bene Cose che succedono quando si fanno le sere con maullo Cose che succedono quando si fanno le sere con maullo Allora, di là non vedo nulla Recuperiamo quest'oro Chiaramente ci portiamo a casa a buffo Devo farmi tanti di quell'armatura di oro O armature di oro Dici, ma che ti servono? A niente, però voglio farmi le armature d'oro Allora, continuiamo a mettere acqua Signori miei Stiamo inondando tutta la zona Vediamo qui, tra l'altro Mi sta anche per lasciare questo piccone Quindi tra un poco dobbiamo fare il piccone nuovo E infatti, però se non sbaglio, non vedo Nulla Perfetto Va bene ragazzoli Allora Piccola pausa Piccola, piccola, piccola altra pausa Faccio un nuovo piccone Sistemo un attimino tutte queste cose C'è un'eventare che sinceramente non mi servono tutte queste cose E ci rivediamo appena riparto per l'avventù Per risalire in superficie Ok ragazzoli Siamo tornati nel punto in cui c'è tutta la lava Praticamente Quindi quello che voglio fare È fare un bel pillarone qua al centro Anzi, ritorniamo verso di là Verso di là, signori miei Sì, vabbè Cerchiamo una delle due zone base Praticamente E facciamo un pillarone al centro E torniamo in superficie Il più rapidamente possibile Perché voglio tornare a casa Questo video non so quanto sta durando Ma io voglio tornare a casa Anche perché vi ho detto che Dobbiamo Cercare di riavvicinarci il più possibile A casa, signori miei Quindi Cerchiamo di tornare su Oh, una cassa Cosa c'è che rompe le scatole Una cassa, raga Una cassa Che fortuna Una cassa L'avevamo già vista questa Va bene Continuiamo a salire di qua, raga Continuiamo a salire di qua Ragazzoli Allora Ho fatto un mega pillarone verso l'alto Sento la pioggia Quindi siamo vicini all'uscita Infatti eccola lì Ok Siamo fuori, signori miei Siamo fuori Là c'è la mia bellissima pecora La mia bellissima pecora dolly Quindi siamo molto vicini a casa Raga Alla fine ci è finita bene Pensavo peggio Siamo quasi dietro casa Dai Considerate che noi siamo partiti Abbiamo fatto tutto il giro della montagna Siamo partiti là sotto Siamo vicinissimi a casa Che cosa bellissima Allora Veloci, veloci, veloci Rientriamo a casa Prima che succeda qualche danno Veloci, 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 veloci Guardate quanto crano Qui No, ora non mi fa girare Ah sì, ma possiamo girare Possiamo girare Il nostro bellissimo amichetto È qui bello tranquillo Ciao Come ti chiamavi? Gigio Ciao Gigio Siamo tornati Siamo vivi Non ti preoccupare Siamo vivi Ok Torniamo velocemente verso casa Verso casa velocemente Fuffio è sempre qui Bello pronto E carico Allora Facciamo un attimino Il resoconto del bottino Signori miei Andiamo qui nella zona delle fornaci E mettiamo a cuocere Tutto il ferro Qui Mettiamo a cuocere Tutto quest'altro ferro Qui E qui mettiamo a cuocere Tutto quest'oro Che ci siamo portati Abbiamo anche dall'altro ferro Ora vediamo Casomai Vediamo se già qualcuno Se l'è fumato Sì Ok Dai Cucino un altro Cucino un altro Ok E il ferro L'abbiamo sistemato tutto Abbiamo altre cose da cuocere No No Non abbiamo altre cose da cuocere Lo lasciamo tutto lì Andiamo a dormire Così vediamo se Per puro caso La notte passa Intanto così Settiamo lo spawn Siamo più tranquilli Tutti quanti Sta continuando a piovere Che cosa bellissima Però va bene Cosa c'è rimasto a noi Tutto quest'amparadana Perfetto Ok Con calma Mi sistemerò Prossimamente Ragazzoli Nel prossimo video Noi andremo a costruire Un piccone di diamante Perché Abbiamo bisogno di un piccone di diamante Perché non ce l'abbiamo E andremo a fare Il nostro bellissimo portale Del nether In questa montagna Di lì Signori miei Recupereremo tutta L'ossidiana Che ci serve E faremo un bellissimo portone Portale del nether In questa direzione E poi Nell'altro episodio ancora Finalmente Andremo a visitare Il nether Ci proveremo raga Detto questo Grazie per aver guardato Questo video Grazie per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo Domani con un prossimo video Bella raga Ciao